hotel select bar pranzo veloce al servizio delle aziende del territorio hotel select via piazzano 90 a tessa la giornata dell'11 ottobre 2020 sarà ricordata come una delle date fondamentali nella storia calcistica tessana dopo 20 anni di assenza torna in scena per una gara di campionato lo storico derby cittadino tra tess e val di sangro fu infatti nell'ormai datato anno 2000 che le due squadre incrociarono i propri destini nel campionato di promozione da lì a qualche anno la polisportiva val di sangro iniziò la sua scalata verso la serie c2 e la tessa prima della fusione arrivò a disputare diverse stagioni in eccellenza le due squadre in scena nella gara odierna sono in realtà frutto di due società rinate ex novo e nulla hanno a che vedere con quelli citati in apertura ma si tratta conti fatti delle due espressioni più importanti del calcio a tessano nonostante le restrizioni legate al covid gli spalti presentano una cornice assolutamente interessante e adesso tocca alle due squadre in campo dare vita a un derby corretto e appassionante anche se si gioca al comunale di montemarcone sono i rosso blu di mister farina a fare gli onori di casa visto che per questa stagione la sua dimora ufficiale per le gare di campionato è l'impianto Vallivo pronti via e rosso blu sono subito graffianti con il gran diagonale dal fondo di Tucci disinnescato dall'attento Serrapica che presidia il primo palo la replica bianca azzurra è affidata a Fonseca che da limite manda la sfera a sorvolare la trasversale e al successivo sinistro a rientrare Di Cardone dal vertice d'area ma anche in questo caso Di Cencio rimane inoperoso al tredicesimo gli atessani tornano a pungere con il temibile traversone dal fondo dell'ex di turno di Biase ma Palladino interviene tempestivamente allontanando la minaccia la gara rimane sempre in bilico con frequenti capovolgimenti di fronte al ventiquattresimo Cardone sventaglia in area per la corrente Cianci ma Di Cencio esce con tempismo e allontana la minaccia a ridosso della prima mezz'ora di gioco la truppa rosso blu sfiora il vantaggio con il velenoso diagonale di Mainella che si stampa sul palo la sfera rimane in gioco ma sulla ribattuta Di Biase e Letto si intralciano a vicenda e sciupano una clamorosa opportunità i bianca azzurri di Bici replicano al trentaseiesimo con l'invitante traversone dal fondo di Mastronardi che Fonseca può solo sfiorare ma non riesce a tramutare l'occasione in ben altra opportunità la parte residuale del primo atto sarà a pannaggio dell'undici di Mister Farina con diverse opportunità del rosso blu per indirizzare la gara sulla sponda tessana al quarantunesimo Quintiliani appostato sul secondo palo non riesce ad intervenire sull'invitante spiovente da fermo di Mainella due minuti dopo Letto spedisce sul fondo vanificando l'ottimo lavoro propedeutico di D'Antonio sulla corsia di sinistra la frazione va in naftalina con il raso terra dal limite dello stesso Letto con Serrapica sulla traiettoria che lascia sfilare a fondo campo alla ripresa dei giochi la gara segna quasi in avvio il suo punto di svolta si gioca da otto minuti infatti quando il signor Carlini di Lanciano ravvise il fallo in area di Benedetti sulla corrente Cianci e indica senza indugio il dischetto dagli undici metri Carpineta va a segno nonostante il disperato tentativo di Dicencio che intuisce la traiettoria ma non può impedire la disfatta i biancazzurri ringalluzziti dal prezioso vantaggio provano a chiudere i discorsi con il successivo acuto di Fonseca e dell'avanzato Mastronardi che sugli sviluppi di un corner di Cardone provano a ribadire nel sacco sarà in definitiva l'ultima occasione per la squadra sangrina con la tessa che al contrario chiuderà in attacco e non poteva essere altrimenti vista l'impellente necessità rosso-blu di rientrare sui giusti binari al venticinquesimo sullo spiovente da fermo del neoentrato Pili Benedetti e il neoentrato d'Ortona finiscono a terra in area ma il direttore di gara lascia proseguire non ravvisando irregolarità l'azione prosegue ma la difesa sangrina riesce a rimediare con affanno 5 minuti dopo Serra picca larga i guantoni e chiude la porta al diagonale in area di Mainella in pieno recupero gli atessani protestano per il contatto in area tra capitane Gennaro Tano e Rossi il signor Carlini vede tutto e non è della stessa opinione lasciando proseguire il fischietto frentano è protagonista al ridosso del triplice fischio allorquando estrae il rosso diretto ai danni dello stesso Rossi punito per il fallo da ultimo uomo su Rossetti di lì a poco arriva il triplice fischio che sancisce il successo della Val di Sangro nell'attesa stracittadina del terzo millennio mister Farina un risultato che non sorride alla Tessa però c'è da dire c'è da rimarcare che la Tessa ha avuto tantissime occasioni da gol tra primo e secondo tempo almeno 10-12 occasioni da gol mancava sempre quel guzzo e quella zampata finale beh come dici bene tu Tiziana c'è grosso rammarico per la sconfitta di oggi di Laga e del derby però abbiamo continuato sulla falsa rega domenica scorsa due grandi prestazioni che purtroppo ci vedono perdenti è un periodo che va così, chi ha giocato a calcio, chi allena, chi ha vissuto da giocatore sa che questi momenti ci sono adesso siamo in Cudine e dobbiamo essere bravi a essere in Cudine ma presto arriveremo a essere martello su queste prestazioni una partita in cui si è rivisto un po' il tifo questa è una nota positiva perché questo Covid già rende tutto più difficile era una partita sentita, non si giocava da 20 anni è stata una partita anche bella da vivere sì, sì, era tanto tempo che forse dal 2000 se non erro e quindi la cornice di pubblico che è venuta oggi seppur in maniera parziale ha fatto sì che l'evento sia stato bellissimo una partita secondo me è ben disperata tutte e due le squadre Val di Sangro sappiamo che è una squadra ormai blasonatissima per questa categoria qui faccio complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato tutto e quindi ripeto come ho detto poco avanti c'è il rammarico per le tante occasioni da gol che non abbiamo concretizzato però ripeto bisogna essere fiduciosi, positivi perché la squadra c'è, la squadra gioca, c'è carattere e arriveranno le vittorie quanto prima sono arrivati anche altri conforsi dei giovani di buone prospettive, con buone qualità bisogna dare anche un po' tempo di amalgamarsi Ma certo, domenica scorsa abbiamo incontrato tra domenica scorsa e quest'oggi vengono due squadre che hanno un progetto tecnico che va avanti da diversi anni con dei giocatori che conoscono a mena dito la categoria quelle che sono le criticità di questo campionato noi siamo sicuramente una buona squadra però l'esperienza è indubbia che ci manca perché noi annoveriamo gente che tra i quattro elementi hanno fatto l'eccellenza altri erano con me in termini della categoria e quindi forse stiamo blocando anche questo però non posso rimproverare niente ragazzi per la benegazione che ci mettono in campo ho detto solamente una cosa che sono orgoglioso di loro e quindi dobbiamo continuare solamente così Mister, un derby che non si giocava da tantissimi anni quasi 20, l'ultimo era finito 0-0 a lei l'onore di ricominciare con un risultato positivo però non la vedo felice al 100% sì, felice per il risultato sicuramente anche per i ragazzi per quello che era successo domenica scorsa dove all'ultimo secondo abbiamo preso gol stavamo rischiando anche oggi perché loro... gli faccio i complimenti perché è una squadra attrezzata una squadra che ti poteva dare fastidio in qualsiasi momento ma sono stati bravi i miei ragazzi ripeto sono contento per il risultato ma abbiamo tanto da lavorare perché comunque il mio lavoro è quello cioè dove non ci sono delle situazioni che i ragazzi hanno dove hanno bisogno lì devo lavorare io e io penso che prima o poi arriveremo a quella maturità per affrontare queste partite questi minuti finali dove dobbiamo gestirli meglio perché comunque la Mariotano nei minuti finali ha avuto delle situazioni dove ci poteva far male siamo stati bravi a stare sempre lì sul pezzo e quindi abbiamo scacciato il pericolo però diciamo che oggi sono contento anche per i nostri dirigenti perché comunque è una partita che non si affrontava da 20 anni e quindi oggi possiamo dire la nostra però faccio i complimenti anche agli avversari per anche per la sportività che hanno avuto quindi complimenti a tutti sono tornati allo stadio anche i tifosi è stato comunque almeno in parte sentito questa è una nota positiva sì 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 perché comunque da una parte e dall'altra hanno fatto il tifo senza insulti e senza niente quindi segno di maturità di sportività quindi io sono contento perché anche i ragazzi che vanno nel campo sentono se c'è il pubblico se non c'è il pubblico quindi è anche un vantaggio per loro a me mi ha fatto piacere questo perché sono tornati quei giovani a tifare spero che questo virus non non faccia sì che obblighi questi ragazzi a stare a casa grazie a tutti